Grazie Presidente, ci troviamo oggi alla vigilia di decisioni importanti da parte del Governo. C'è preoccupazione su una possibile seconda ondata, i casi anche nelle ultime settimane sono in aumento, allora a maggior ragione è necessario che gli accorgimenti e le regole che come Paese ci siamo dati vengano rispettate anche per quanto riguarda i servizi erogati alla collettività e nello specifico ai trasporti degli studenti. Su questo noi oggi vogliamo porre l'attenzione, la scuola ha riaperto da poco, la riorganizzazione delle classi dai dati che emergono sta funzionando nonostante tutte le polemiche contro la Ministra Azzolina, più critica sembra essere la situazione per quanto riguarda la gestione del TPL per gli studenti. Da più parti ci giungono segnalazioni sul mancato rispetto per esempio del limite della capienza dell'80%, di autobus sovraffollati dove viene meno addirittura la salita a bordo da parte degli studenti e la mancanza a volte anche dei dispositivi di igienizzazione, motivo per il quale abbiamo voluto predisporre un questionario online chiedendo in qualche modo dove fossero queste specifiche criticità. L'intento naturalmente è quello costruttivo, è un momento difficile per tutti e quindi l'intento è quello di dare ulteriori strumenti all'assessore e quindi alla giunta per poter intervenire dove è necessario farlo. L'obiettivo è quello ovviamente di tutelare la salute dei nostri ragazzi e di chi gli sta accanto. Alcuni esempi di criticità li abbiamo rilevate a Bologna sulla linea 38 che arriva alla Fiera, criticità urbane e extraurbane a Modena nel tratto per Soliera con la linea 550, a Reggio Emilia ci vengono segnalate problematiche sulla linea 10 per Sant'Ilario e Denza, Ferrara, la linea 550% nella tratta addosso Terre del Reno dove ci segnalano che il numero di bus è rimasto lo stesso rispetto allo scorso anno. Allora io assessore le chiedo cosa si sta facendo per affrontare queste criticità e un impegno anche ad affrontare le situazioni critiche anche con le aziende nel trasporto pubblico locale dove fosse necessario per esempio aumentare i bus o rimodulare il servizio oppure valutare anche ingressi scaglionati rispetto agli istituti scolastici, quindi un impegno ad approfondire anche queste situazioni che le consegneremo, ovviamente sono dati telematici quindi le faremo avere i riscontri che noi abbiamo avuto da questi questionari. È chiaro che sia a livello di Governo che a livello di Regione ci si sta sforzando in questo senso anche con risorse ingenti che sono state stanziate, è chiaro che questo è un momento delicato per tutti e credo che anche come Regione noi siamo chiamati davvero a dare il massimo per evitare che il numero dei contagi aumenti. In questo senso, come dicevo nelle premesse, noi abbiamo voluto raccogliere segnalazioni che ci sono arrivate e metterle un po' insieme in maniera organica e quindi Assessore io le consegnerò questi dati nella speranza ovviamente che ci sia un approfondimento specifico e si voglia intervenire sulle specifiche criticità. Grazie.